salvo a tutti ragazzi qui Antonio Cianci il raccata film per voi riprendiamo il palinsesto horror con una collezione targata midnight classics e dalla coach media con furora abbiamo non aprite con la porta 1 e 2 entrambi diretti da top hooper devo dire che non è stato facile è stata più una sfida per me stesso che un semplice recupero e rispolvero perché come ben sapete odio profondamente leatherface mi fece venire gli incubi già alla teneretà di 5 anni è bastata una sola scena alla tv del primo originale del 74 per bloccarmi la crescita e con molta più consapevolezza e voglia di addentrarmi di nuovo in queste malsane atmosfere ho deciso grazie al prime day su amazon di prendere il cofanetto con uno sconto ben piazzato e niente non poteva non appartenere alla mia collezione blu ray cosa mi affascina del primo capitolo e cosa mi ha colpito del secondo tanto da ritenerlo addirittura superiore parliamone nel dettaglio the texas chainsaw massacre è fuoco aria asfissiante dalle strade volenti del texas è ambientazione rurale che nasconde segreti inconfessabili e omicidi senza movente the texas chainsaw massacre è esperienza sensoriale e tridimensionale si deve per forza esordire così con la creatura di hooper un film che ha bisogno di liberarsi dalla patina di finzione per ritrarre con assoluta accuratezza ma anche voglia di stupire un fatto di cronaca accaduto non è vero ma ormai lo spettatore è portato a pensare che sia successo si reinterpreta si sperimenta lo spazio il caldo colori che spaccano la retina è l'effetto possiamo dire la midsommar dei giorni nostri se ci pensate bene hooper fa quello che ormai è il tratto distintivo di ariaster ti fa scoprire ogni anfratto della location lo te lo deve far respirare vivere sulla tua pelle calcoli la geometria degli spazi sconfinati o angusti ma non si pensa più al cosa al quando al perché ci ritroviamo con i protagonisti in un contesto horror che ancora horror non è cosa può capitare di così spiazzante la curiosità ti scalcia in petto e vuoi saperne di più non aprite con la porta è un chiaro invito a non addentrarsi in proprietà isolate fuori dal mondo ed eccoci con lo stesso tipo di paura trasmessa in psycho con la doccia o lo squalo con il mare aperto prima si stabilisce un contatto con le atmosfere malsane poi con il terrore visivo immediato il sonoro poi è un altro aspetto fondamentale dell'ormai intramontabile calta tutto ciò che bisogna percepire è un senso costante di minaccia imminente una nuova forma del male che si deve manifestare senza pietà o preparativi con dei suoni quelli della motosega e delle urla di gun ransen nel ruolo di faccia di pelle dei suoni che non ti lasciano più andare se funzionano allora il film può procedere spedito verso le porte di un inferno alternativo fatto di follia di degrado di fettore nauseabondo e brividi intensi è un crescendo ragionato che culmina nelle apparizioni improvvise del serial killer o nella sequenza iconica della cena in famiglia dove la pazzia ormai ha preso il sopravvento e regna solamente il caos persiste la voglia di scappare dalla stanza o dalla visione del film il concentrato di panico e terrore lascia lo spazio all'umorismo marcato e agli effetti truculenti ad una maggior ricercatezza visiva e ad una regia che non vuole essere volutamente opprimente ma di ampie vedute a stretto contatto con il direttore della fotografia richard corris la parte 2 di non aprita quella porta io non l'avevo mai vista sono sincero e questa prima volta è stata a dir poco folgorante balzo in avanti nel 1986 cambia la visione complessiva del regista e cambia il tono adottato non è più una paura sottile che deve manifestarsi con una follia inspiegabile ma un grande parco dei divertimenti dell'assurdo e della depravazione uno sfogo per top hupper al massimo della sua forma stilistica che che decide di liberarsi dalle tensioni scatenate dalla guerra del vietnam per mettere in scena una satira graffiante efficace con eccessi volutamente rappresentati se nel primo film avevamo marilyn burns nel ruolo di sally un primissimo esempio di final girl nella scena horror della new hollywood qui nella parte 2 si ritrae un personaggio sì in difficoltà intrappolata dalla famiglia di leatherface e intendo la dj stretch interpretata dalla texana caroline williams ma questa donna è intraprendente in grado di tener testa agli stralunati villain del sequel la durata si fa leggermente più estesa dagli 80 minuti ai 93 di questa seconda parte per lasciare tempo allo spettatore di visitare il nuovo covo di drayton chop top e bubba sawyer una grotta sotterranea immersa in luci colorate e addobbi che sembrano natalizie una realtà alternativa che affascina ma al tempo stesso confonde le idee in un gioco di dualismo di dualità che funge da contrasto alla pazzia che regna sovrana fra i membri della famiglia sawyer danny sopper poi è la ciliegina sulla torta l'ho riservata alla fine lo sceriffo lefty ovvero lo zio dei due protagonisti del film del 74 sally e franklin lo zio si rimedia ben tre motoseghe che alimentano la sua rabbia accecante per porre fine all'ondata di uccisioni causate dai sawyer il suo è un percorso di un crociato che affronta le nefandezze e i crimini oltre la umana comprensione per superare traumi che non verranno mai spiegati a fondo abbiamo quindi solo un protagonista che raggiungerà lo stesso livello di pazzia dei killer che vuole stanare e tom whooper si serve di interpretazioni allucinate per rompere ogni regola degli horror fino a quel momento rispettate con i vari slasher più che terrorizzare con la paura dell'ignoto u permette in atto una trasformazione delirante della sua creatura dove il sangue scorre a fiumi i dettagli espliciti abbondano con un trucco superlativo da parte del leggendario tom savini e in pratica si assiste ad un lungo instancabile in seguimento fra gatto e topo anche in ruoli invertiti per ottenere quella sana dose di divertimento che non rovina in nessun modo la visione del regista due facce di una medaglia lurida immersa nel fango piazzata in una strada lastricata di cadaveri e scheletri di animali e vittime umane i due non aprite quella porta sono l'alien e l'alien scontro finale partoriti dalla testa di un solo visionario direttore d'orchestra con una sinfonia instabile ma maledettamente magnetica è un viaggio senza possibilità di ripresa per vittime che non possono reagire o devono agire in fretta per salvarsi la pelle in un gioco al massacro fuori di testa e ci tengo a dirvi che il secondo film a distanza di 35 anni è da recuperare assolutamente senza effettuare paragoni forzati lo ritengo invecchiato benissimo e con una grande personalità tutta da scoprire dietro e davanti alla cinepresa intanto spero che vi sia piaciuto il video ragazzi qui Antonio Cianci il raccata film con l'analisi di due titoloni sfornati dalla coq media ha finito un pollicione in alto per sicurezza e fatemi sapere cosa ne pensate dei due film sotto nei commenti vi aspetto intanto vi mando un caloroso abbraccio carissimi seguaci del raccata film un saluto a tutti ciao alla prossima